Di tutti i pezzi della guerra mondiale a pezzi di cui parla spesso Papa Francesco quello israeliano è certamente il più mondiale. Oserei dire che a confronto quello russo-ucraino è una storia di provincia. In che senso è così globalizzata la crisi, anzi la guerra sanguinosa, in corso tra Israele e Hamas a Gaza ed intorni. Prendiamo semplicemente l'asse musulmano, cioè un ecumene che comprende una vasta parte del cosiddetto sud globale, dal Marocco all'Arabia Saudita, dall'Arabia Saudita all'Indonesia, alla Malesia, insomma un po' mezzo mondo che è in agitazione per la sorte dei palestinesi che sono, come sappiamo, in grandissima parte musulmani. Ma consideriamo anche gli agganci internazionali di Israele, in primo luogo il fatto di essere protetto, sia pure con qualche bemolle ormai dagli Stati Uniti d'America, i suoi legami etnico-storico-demografici con l'Europa centrale, con la Russia e soprattutto i rapporti con il mondo arabo, in particolare con le petromonarchie del Golfo, Arabia Saudita in testa, con cui prima del 7 ottobre il governo Netanyahu stava intessendo la sottile trama dei cosiddetti accordi di Abramo, che avevano una dimensione economica e una militare economica, il tentativo di diffondere il benessere attraverso uno scambio tra petrodollari arabi e tecnologia israeliana, militare nel senso che, settendosi ormai poco protetti dagli americani, i sauditi, gli emiratini e quanti altri, chiedevano allo Stato ebraico quei sistemi d'arma, come per esempio il famoso Iron Dome, che dovrebbe proteggere, in parte protegge effettivamente, Israele dai missili nemici e che l'Arabia Saudita vede soprattutto come protezione contro l'Iran. Questo per le dimensioni, ma oggi vorrei provare a alzare lo sguardo dal campo di battaglia e provare a immaginare con voi quale può essere l'esito geopolitico di questo conflitto, assumendo un'ipotesi tutta da dimostrare, ma per poter ragionare occorre, e cioè che in un tempo probabilmente non breve Israele assuma il pieno controllo della striscia di Gaza, ne espella anche una parte significativa della popolazione e riesca a contenere la minaccia di Hamas o quantomeno ad espellere Hamas fuori dalla striscia. Torneremmo in condizioni molto diverse a quello che era lo stato dell'arte nel 2005, e cioè dentro Gaza c'erano gli israeliani, dentro Gaza gli israeliani stanno operando e soprattutto dovranno restare. Non vogliono nemmeno sentire parlare di bandiere ONU o altre coalizioni internazionali di interposizione tra loro e i palestinesi, Israele sta conducendo questa guerra per, dice a Gerusalemme, eradicare la struttura militare di Hamas da Gaza, il che vuol dire stabilire la propria. Molto dipenderà, se pensiamo al futuro, quindi a un dopo cessato il fuoco, da quanta popolazione palestinese vi resterà. Erano circa 2 milioni e 300 mila in questo spazio stretto prima del 7 ottobre. Dopo quella tragedia e dopo la rappresaglia molto robusta, usiamo un eufemismo da parte israeliana, le cose probabilmente sono cambiate. Abbiamo visto che l'esercito di Gerusalemme ha spinto la popolazione palestinese dal nord verso il centro, verso il sud e negli ultimi giorni sta cercando di spingerla ancora più in là. Ma più in là che cosa c'è? C'è il muro dell'Egitto. L'Egitto non vuol sapere di accogliere palestinesi, anche perché teme con qualche ragione che oltre ai profughi dovrebbe gestire qualche migliaio di terroristi di Hamas legati alla filiera dei fratelli musulmani di Egitto, cioè ai nemici giurati del generale al Sissi, al Comando, al Cairo, il che è perfettamente intollerabile. Aggiungerei anche un altro possibile scenario legato a Gaza, sempre a proposito di popolazione, che riguarda la Cisgiordania. I coloni stanno approfittando negli ultimi mesi di questa crisi, anche negli ultimi giorni sempre di più, per cercare di guadagnare terreno e postazioni nel campo cisgiordano, cioè in quella che dal punto di vista israeliano, in particolare religioso, è la terra di Giudea e Samaria, e in questo sono sostenuti anche dall'esercito. Il che vorrebbe dire che in uno scenario apocalittico, che probabilmente non si verificherà, ma che non è escluso possa accadere, una parte almeno della popolazione palestinese di Cisgiordania potrebbe essere costretta, volente o nolente, a trasferirsi in Giordania, dove ancora una volta non verrebbe affatto accolta con simpatia dal regime locale, dalla monarchia scemita, soprattutto non verrebbe accolta con simpatia dalle tribù beduine che danno il tono a gran parte della società giordana. Quindi uno dei paradossi di questa guerra è che Israele sta destabilizzando Egitto e Giordania, cioè i due paesi con cui riuscì faticosamente a stabilire un trattato di pace e con cui fino a ieri aveva stabilito un rapporto relativamente tranquillo. C'è però di più, assumendo uno scenario intermedio, cioè che una parte dei palestinesi sia costretta ad evacuare le sue case, in particolare a Gaza, a quel punto Israele dovrebbe cambiare i suoi confini, nel senso che dovrebbe decidere se restare a Gaza oppure se andarsene. Ma andarsene e poi lasciare quel territorio di nuovo magari a Hamas o qualche altra formazione considerata schiettamente terroristica, islamista, sarebbe una sconfitta assolutamente intollerabile. E dall'altra parte in Cisgiordania non è che i coloni siano perfettamente controllabili dal governo di Gerusalemme. Insomma, quello che questa guerra ha messo in discussione è il principio dell'emergenza su cui fin dalla nascita si regge lo stato ebraico. In che senso? Nel senso che lo stato ebraico si considera in perenne emergenza perché perennemente minacciato, considerandosi quindi una sorta di villa nella giungla, per usare l'espressione dell'ex primo ministro Barak, il quale appunto vedeva Israele come circondato da una giungla di nemici. Guardiamo anche però i fatti. Possono i palestinesi in questa fase storica almeno minacciare l'esistenza di Israele? A me non pare. Chi è che può veramente farlo? Solamente l'Iran. Si dirà, ed è vero, che l'Iran usa Hamas, usa Hezbollah, usa la jihad islamica come propri strumenti di pressione su Israele e come propri strumenti di penetrazione dallo spazio storico persiano verso il Mediterraneo, lungo la direttrice che parte dall'Afghanistan occidentale, via Teheran, Damasco e poi Beirut. E qui siamo in territorio di Hezbollah, cioè della formazione islamista libanese sponsorizzata da Teheran, che è un legame direi esistenziale con il regime persiano. Questa considerazione sul perenne stato di emergenza costringe Israele a non decidere quale sia il suo confine orientale. Insomma, a tracciare una linea o dentro la Cisgiordania o anche magari altrove, per esempio andando alcuni almeno vorrebbero non solamente a raggiungere la Valle del Giordano, ma anche pezzi di Giordania, il che evidentemente significerebbe una catastrofe per il popolo palestinese e la fine della Giordania. Però vi sono, ormai si legge apertamente e si ascolta spesso questa voce, coloro che parliamo degli estremisti di destra israeliani, in particolare in campo colonico, immaginano che il 2024 possa assomigliare al 48-49, cioè alla cosiddetta Nakba, termine arabo, che significa catastrofe e cioè appunto l'espulsione di gran parte della popolazione araba da parte di Israele dai territori dove abitava all'epoca e questo potrebbe, secondo alcuni, ripetersi l'anno prossimo. Questo però obbligherebbe a quel punto Israele a tracciare finalmente un confine orientale e a difenderlo e quindi a cambiare completamente mentalità e approccio. Uno dei problemi di chi vive nella emergenza permanente è di non potersi permettere una strategia, ma di dover essere sempre estremamente flessibile e pronto a reagire e quindi incapace, però, e questo è il limite, di guardare oltre la collina, di guardare l'orizzonte futuro. Questa situazione oggi probabilmente verrà addettata a Israele dai fatti, ma la cultura strategica israeliana non è pronta e quindi passeremo molto probabilmente, anche dopo il cessato il fuoco, dentro una crisi interna israeliana, per esempio anche attraverso il lavoro di una commissione d'inchiesta che stabilirà di chi sono le responsabilità del disastro del 7 ottobre, che sarebbe parallela, sia pure in condizioni molte più favorevoli, alla crisi esistenziale di milioni palestinesi che oggi sanno più o meno dove sono, ma non hanno un'idea di dove saranno domani.